Il proprietario Nell'ufficio vi era Sallusti, tondo come un porcellino, le guance rosa e i capelli di zucchero filato, il proprietario della banca privata. Accanto a me, davanti alla scrivania di Sallusti, sedeva il professor Malivi, il direttore generale della banca, un uomo dagli occhi saggi e dalla bocca tormentata. I miei occhi acuti percorrevano l'ufficio lussuoso, attribuendo ad ognuno dei due la mia etichetta. A chi poteva interessare la filosofia della reincarnazione? Sapevo che in teoria ad ognuno poteva interessare, perché siamo tutti dei reincarnati, ma in pratica gli interessati sono assai pochi. A Sallusti, il proprietario della banca, la reincarnazione non poteva interessare. Il suo scoglio era rappresentato dal suo amore per il cibo e per il denaro. Anche a Malivi, il direttore della banca, la reincarnazione non poteva interessare a causa della sua saggezza limitata al denaro. Ricordai che stavo lì per chiedere del denaro e allora, come mi capitava spesso, sbagliai, ammesso che possa esistere lo sbaglio, e con la mia forte voce caparbia, dissi «Voi mi conoscete da molto tempo. Se non mi date il denaro aiutandomi a risolvere il problema contingente della mia azienda, in una prossima incarnazione subirete un'incomprensione analoga a quella che fate subire a me adesso». «Che significa?» disse Sallusti dalle guance rosa. «Eh, che significa?» confermò Malivi assestandosi più comodamente nella poltrona. «Significa che tra me e voi adesso c'è uno scontro di io. Il vostro io non mi vuole prestare i soldi perché ha paura di perderli, mentre il mio io ha bisogno di quei soldi che gli servono per non fallire». «E allora?» disse il proprietario della banca. «Allora accade che nessuno dei vostri due io vuole tenere presente il fatto che il mio io, che voi conoscete da molto e che vi ha sempre restituito il denaro che mi avete imprestato, ha un bisogno assoluto di aiuto». Il proprietario della banca annusò furtivamente del tabacco. Il ragazzo del bar aziendale, alto e sottile, entrò nello studio per portare i caffè. «Malivi mi chiese, ma perché uno dovrebbe credere nella reincarnazione? Perché l'essere umano è uscito dall'infanzia spirituale e ha bisogno di un credere che gli spieghi la vita», dissi attento. Il direttore Malivi mi rivolse un arcigno sorriso di rassegnazione e si abbandonò alla mia semplice eloquenza. Io ne approfittai per continuare. Ad un certo punto della sua evoluzione uno può credere alla reincarnazione quando la sera accende la televisione per guardare il telegiornale e comincia a chiedersi «E' passato un altro giorno della mia vita, ma che è passato a fare?» «Allora è pronto per accettare la reincarnazione che, diciamolo, spiega tutto». «E se io non ho bisogno di credere nella reincarnazione?» disse Sallusti «Allora continuo a vivere nella sua vita come uno straniero come uno straniero spirituale», dissi «Il ragazzo del bar era rimasto ad ascoltarmi». «Il ragazzo del bar era rimasto ad ascoltare la reincarnazione che, diciamolo, spiega tutto».